Ciao, sono Samantha De Grine, sono qui con il grande Stefano Dorazio. Ma che meraviglia una presentazione così, io non ho già sentito alla testa, invece siamo qui per dirvi una cosa veramente importante. Assolutamente sì. Per la Debra Italia Onlus. È vero, dobbiamo aiutare questi bambini che soffrono di una malattia assolutamente rarissima, i bambini in farfalla. Stiamo facendo questo calendario proprio per aiutare tutte le persone che sono meno fortunate di noi, quindi mano sul cuore, mano sul portafoglio e soprattutto magari una volta che avete a casa questo calendario, magari comprendo questa parte, dall'altra parte avete sicuramente qualcosa che vi accompagnerà per un mese benissimo. E soprattutto spargete la voce.